È stato dato ragione a quello che è stato l'esito già espresso dalla competizione elettorale del giugno 2022. L'esito che era chiaro, netto. Io ho sempre detto che gli elettori siano espressi liberamente e democraticamente e avevano individuato la mia figura e la mia compagine di squadra che ci eravamo proposti per guidare la città per i successivi cinque anni. Siamo soltanto rammaticati di questi mesi. Si è gettato fango sulla città di Agropoli, si è gettato fango sul sottoscritto, sui componenti della squadra che avessero potuto interferire sulla libera espressione del voto. E poi soprattutto perché Agropoli è stata equiparata ad altre realtà che non hanno nulla a che fare con quella che è l'immagine pulita della nostra bellissima città. Come si riparte dopo questa sentenza? Con più terminazione, con più grinta sicuramente. Non c'era il massimo impegno, ma non c'era mai venuto meno. Vuole lasciare solo un messaggio magari agli avversari, tra virgolette, ai consiglieri magari di minoranza. In questo periodo la nostra maggioranza si è anche arricchita perché alcuni membri della minoranza sono passati con noi e proprio perché hanno capito la bontà del nostro operario, del nostro metodo di amministrare la città. Quindi io a chi è rimasto in minoranza, a chi rispetto il loro lavoro, chiedo veramente che questa sia la volta buona affinché i toni si distendono in consiglio comunale, ma soprattutto nella nostra comunità. È stato riconosciuto sostanzialmente il risultato elettorale che era schiacciante, 4.000 voti di differenza tra le due liste e nello stesso tempo sono stati degradati a meri vizi formali tutte quelle che erano delle irregolarità. I verbali, si sa, non vengono fatti da giuristi, vengono fatti da uomini che non hanno molte volte una cultura giuridica tale da poter giustificare un'attenzione a dei dati molte volte formali. Qua, al di là dei vizi formali, non c'era prova di un'alterazione dell'identità del risultato elettorale, non c'era prova di una contraffazione del risultato elettorale, non c'era la scheda ballerina. Siamo al di fuori dell'ambiente dei casalesi, siamo certamente in realtà dove al di là dei film le elezioni, se vengono correttamente svolte, come sono state correttamente svolte quelle da Agropoli e portano al risultato schiacciante, quasi prebiscitario, non possono poi essere rimosse per vizi veramente formali o per situazioni di mancata corrispondenza. Abbiamo dimostrato che le varie corrispondenze sostanzialmente c'erano, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la fondatezza del nostro appello.